Sono tanti e diversi i progetti che riguarderanno i Musei Vaticani nei prossimi mesi, messi a punto da Barbara Iatta dal 1 gennaio alla guida dell'istituzione. Nata a Roma il 6 ottobre 1962, ha conseguito la laurea in lettere presso l'Università della Sapienza di Roma nel 1986 e l'anno seguente il diploma di archivista presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica. Entrata presso la Biblioteca Apostolica nel 1996, è stata responsabile del Gabinetto delle Stampe, curatore della Grafica del Dipartimento degli Stampati e dallo scorso giugno vice direttore dei Musei Vaticani. Prima donna nella storia a ricoprire il ruolo di direttore, Barbara Iatta guarda questo incarico con entusiasmo e dinamismo. Si continuerà con una serie di progetti che sono stati già avviati nella precedente direzione, abbiamo diverse iniziative espositive, una bella e grande e importante mostra sulla Menorà in collaborazione con il Museo Ebraico di Roma che sarà a maggio, ma abbiamo soprattutto a breve termine la presentazione del nuovo sito dei Musei Vaticani, il nuovo sito che sarà l'interfaccia sul mondo, rinnovato e diciamo ridisegnato in quella che è tutto sommato la nuova realtà dei Musei Vaticani, sia per quanto riguarda l'offerta diciamo ai visitatori, che per quanto riguarda il catalogo delle opere online, quindi il catalogo delle opere esposte. Qual è il bagaglio esperenziale che porta con sé dalla Biblioteca Apostolica Vaticana? Vengono da una realtà dove si fa ricerca, dove si pubblicano i cataloghi delle opere, quindi sicuramente questo aspetto, ricerca e cataloghi e conoscenza e divulgazione, non c'è dubbio. Questo è il bagaglio fondamentale che mi porto da questa bellissima esperienza di Biblioteca Vaticana per vent'anni. Nella realtà Musei Vaticani quali sono i punti di forza e quelli che devono essere perfezionati? L'ampliamento, l'apertura a tanti turisti sicuramente è un punto di forza perché è un modo di condividere, di far conoscere lo straordinario patrimonio delle nostre collezioni al mondo, ai 6 milioni e oltre di visitatori che ormai entrano nei nostri musei. I punti critici sono esattamente lo stesso, cioè lo stesso il punto critico, cioè questi 6 milioni effettivamente bisogna reggimentare in un modo più coerente e quindi stiamo lavorando per fare in modo che questi 6 milioni di visitatori, e se cresceranno ancora di più, possano fruire in maniera coerente, in maniera giusta, in maniera sana, in maniera fattiva, delle bellezze delle nostre collezioni. Quindi non avere dei canali preferenziali soltanto Galleria delle Carte Geografica, San Serafello, Cappella Sistina, ma anche far conoscere veramente lo straordinario patrimonio che abbiamo anche di altri musei. I musei vaticani continuano intanto a occuparsi con grande successo di pubblico anche dell'apertura della Residenza Pontificia Estiva di Castel Gandolfo. Papa Francesco ha fortemente voluto l'apertura non soltanto l'anno scorso dell'appartamento, diciamo, del primo piano, dell'appartamento pontificio, del Palazzo Pontificio, ma quest'anno, a ottobre, ha voluto l'apertura del suo appartamento privato. Tutti i sabati un treno parte dalla stazione interna vaticana, quindi dall'interno dei Giardini Vaticani, e raggiunge Castel Gandolfo in treno, con un accordo con le ferrovie dello Stato, ma è un modo straordinario per fruire di due aspetti delle collezioni papali, le collezioni vaticane e poi i giardini, e poi le collezioni di Castel Gandolfo.